Venendo ai nostri ospiti, come vi avevo anticipato, li avete già conosciuti, per chi ha seguito le nostre trasmissioni serali, si tratta di Ingrid e Nabil, che portano avanti la fede Bahai, che è una comunità che nasce nel XIX secolo, oggi in Italia, è anche seguita, come nel mondo, da moltissime persone, e dopo ce lo rispiegheranno loro, comunque è una fede che ha riscontrato davvero un grande seguito, e adesso loro ci rispiegheranno anche in che cosa consiste, i loro principi della fede Bahai, che comunque se avete avuto modo di ascoltare già le nostre trasmissioni, già un po' sapete insomma di cosa parliamo, è una fede anche veramente molto bella perché davvero rappresenta, porta avanti dei messaggi e degli ideali davvero bellissimi, di un grande valore spirituale. Allora, intanto io passo subito la linea ai nostri ospiti, allora Nabil che ci parlerà di un tema oggi, Nabil chiaramente, siccome vengono dall'Inghilterra, Nabil parlerà in inglese e Ingrid si occuperà della traduzione, perciò sentirete chiaramente prima Nabil che parla e dopo man mano Ingrid che traduce quello che dice. Allora, oggi tra l'altro perché l'altra volta avevate già portato un argomento che era molto attuale, visto che si era parlato un po' della situazione anche attuale del Covid, un po' come è vista dalla fede Bahai e anche un messaggio di speranza bellissimo, che ancora me lo ricordo, che avete portato su questa visione del mondo attuale, sul cambiamento che ci dobbiamo aspettare. Oggi parliamo di un argomento che è molto discusso, diciamo, perché ha preso parecchio piede, però è ancora pieno di controversie, forse è ancora un po' ostico per molte persone, che sarebbe a dire se nell'universo siamo soli, cioè se noi del pianeta Terra siamo gli unici abitanti o se c'è veramente qualche altro pianeta abitato, se c'è qualche altro mondo. E questo chiaramente è un argomento che ancora magari ci possono essere persone adesso che hanno una visione più aperta in merito o magari chi ci crede davvero fermamente, però troviamo ancora anche una certa ostilità, anche soprattutto dai media. Chi è la molto chiusa, chiusa molto. Sì, sì, ok. La gente dice una a noi molto, ma molto più. Eh sì, va bene. Partiamo con le provocazioni in merito. Chi ha il coraggio di difendersi e la garante. Sì, perché del resto è qui al coraggio delle idee, poi con il nostro presidente che forse, anche se non ha il microfono, però lo sentite in sottofondo, che chiaramente ha lanciato la prima frecciatina. Allora, va bene. Comunque, andiamo un po' a sviscerare questo argomento, ecco. Andiamo un po' a parlare di questo argomento. Innanzitutto, se magari Nabil vuoi dirci soltanto sommariamente in un riassunto i principi della fede Bahá'í, giusto per chi non l'avesse mai sentita, insomma, per chi non la conoscesse. Viviana, molte grazie. Mi scuso per non poter parlare in italiano. Ma solo in inglese. Non è un problema. Un giorno imparerò. Come mi hai chiesto, adesso parlerò brevemente, cioè dei principi della fede e della sua storia. E la fede Bahá'í è la più giovane delle religioni mondiali. La fede Bahá'í è stata fondata alla metà del XIX secolo da Bahá'u'lláh. Il profeta fondatore della fede Bahá'í, il cui nome significa la gloria di Dio. Scusatemi, un attimo solo, perché vedo che quel microfono, scusatemi, non dà un segnale. È quello di Nabil. Quindi, un attimo. Is this better? I'm bringing the microphone a bit closer. Allora. No, in realtà io sento, però vedo che non dà un segnale. Quindi chiedo magari ai nostri radioscultatori, se sentite qualche problema, se non sentite Nabil, di segnalarmelo, perché dobbiamo cercare di capire un attimo. Si è spinato, mi sono male, no? No. Allora, facciamo una cosa, perché... No, se no lo possiamo dividere. Ecco, va bene. Magari intanto utilizzate lo stesso. Sì. Ecco. Sì, scusate per l'inconveniente. No, perché in realtà è il microfono 4, un attimo. No, 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 mi hanno detto che va tutto ok. Ok, allora come... Si sente bene. Rettifico quello che ho detto, perché qua non mi dava il segnale, allora pensavo che non si sentisse. Ok, perfetto. Allora, come non detto. Continuiamo. Dunque, anche se ci sono intorno a 5-6 milioni di Bahai nel mondo, e a seconda dell'Enciclopedia Britannica, la fede di Bahai è la seconda religione più estesa nel mondo. Non, ovviamente, c'è in termini numerici, ma nei termini c'è delle nazioni, dei gruppi etnici, e dei territori dei paesi, dove si trovano i membri della fede Bahai. Noi crediamo fermamente nell'unità della razza umana, nell'unità della religione. Noi accettiamo e crediamo in tutte le grandi religioni del mondo, incluso il cristianesimo. E dunque crediamo nell'unità di Dio. E crediamo nell'abolizione di tutti i pregiudizi che si basano sulla razza, sulle religioni o sulla classe. E anche Bahá'u'lláh proclamò l'assoluta uguaglianza dell'uomo e della donna. E lui affermò questo nel diciannovesimo secolo, che era un secolo in cui non vi era neanche un paese al mondo che permetteva alle donne di votare, per esempio. Bahá'u'lláh proclamò che i uomini e le donne sono come due uomini di un uomo. E lui disse che l'uomo e la donna sono come le due ali di un uccello. E fino a quando le due ali non saranno abbastanza forti, l'uccello non potrà mai volare. Dunque ciò significa che se tu tieni in sottomissione la donna, non stai solo sottomettendo, cioè metà dell'umanità. Stai sottomettendo tutta l'umanità. Perché un uccello con solo un'ala non riuscirà a volare o vola facendo dei cerchi, in cerchio. Si gira intorno e su. E così come non si può applaudire con una mano. E crediamo nell'armonia della scienza e della religione. La vera scienza e la vera religione non possono essere in conflitto l'uno con l'altro. E crediamo anche nella abolizione degli estremi di ricchezza e di povertà. E questi sono solo alcuni dei principi della fede Baha'i. Però crediamo nell'imperativo che è arrivato il momento per che il mondo si unisca. Quasi ogni problema che noi stiamo affrontando oggi è un sintomo è un sintomo del fallimento, del riconoscimento, dell'unità, dell'umanità. E questi sono solo, cioè come ho detto prima, alcuni dei nostri principi. Anche se nella fede noi abbiamo un ordine amministrativo che viene eletto, e noi non abbiamo clero. Per questa ragione io condividerò con voi la mia prospettiva sulla fede Baha'i e sull'argomento che tratteremo. E oggi parleremo, siamo da soli nell'universo? E ci sono, c'è dei passaggi molto interessanti negli scritti Baha'i su questo argomento. Prima di condividere con voi queste prospettive, questi insegnamenti, ho pensato che sarebbe opportuno condividere con i vostri ascoltatori e quanto sia cambiata la nostra prospettiva sull'universo. È cambiata drammaticamente anche nell'ultimo secolo e soprattutto negli ultimi decenni. E se andiamo addirittura ancora di più al passato, anche se i greci stessi avevano già intuito che il mondo fosse rotondo, ci sono voluti moltissimi secoli perché il mondo capisse che il mondo non era piano, cioè è flat. E c'è chi lo crede anche attualmente. Esatto, ci sono i terrapiattisti. Esatto, mi è venuta da ridere. E fino alla pubblicazione del lavoro scientifico nel XVI secolo di Copernico, molte persone continuavano a credere che il sole era quello che girava attorno alla Terra. E adesso che noi siamo nella patria di Galileo Galilei, e sappiamo che la fisica moderna è nata a Padova, cioè nella torre di osservazione di Galileo. Dunque Padova è veramente importante per la fisica moderna. E tutti noi sappiamo di quanto lui fu perseguitato per aver osato dire questo. Ma anche nell'ultimo secolo le nostre idee sono molto cambiate. E noi pensavamo che la Via Lattea era l'unica galassia nell'universo. E non fu fino al 1924 che Edwin Hubble ha scoperto un'altra galassia nell'universo che è la nebulosa Andromeda. Ad oggi la stima dell'esistenza, cioè di quante galassie ci sono nell'universo, è quella di 10 trilioni. Dunque un secolo fa pensavamo che ce ne fosse una, e ad oggi, e continuerà ad aumentare, sappiamo che ci sono almeno 10 trilioni di galassie. Quindi è un numero che non possiamo neanche immaginare con la mente. È difficile per la mente, cioè anche riuscire a concepire questo concetto. E fino a di recente abbiamo pensato che solo il nostro sistema solare avesse dei pianeti. And the first scientific detection of an exoplanet, a planet outside of our solar system, ma in realtà... It was made in 1988 and only confirmed in 2012. Ma solo nel 1988 in realtà hanno fatto la prima scoperta di un esopianeta. e ciò significa un pianeta che è fuori al nostro sistema solare. Ah, e questo è stato confermato nel 2012, tra l'altro. Solo nel 2012. And the number of exoplanets keeps growing. E il numero di esopianeti, anche questo continua a crescere. So, NASA actually has a website. E la NASA ha in realtà un sito web. dove fanno una lista di tutti gli esopianeti che sono stati scoperti. E fino a ieri c'è stata la conferma dell'esistenza di 4341 esopianeti in 3216 sistemi solari. Ma ci sono, per esempio, altri 5708 pianeti, cioè potenziali esopianeti che stanno solo aspettando la conferma. E questo numero continuerà a crescere. A crescere, sì, sì. E un'altra cosa che abbiamo sempre creduto è che anche se ci fossero stati dei pianeti fuori dal nostro sistema solare nessuno sarebbe stato come il pianeta Terra. Ma gli scienziati in realtà hanno dimostrato che ci sono dei pianeti che sono molto simili alla Terra. in termini della loro, cioè delle loro dimensioni e dell'abilità di avere acqua. Dunque, quante stelle ci sono nell'universo? Dunque, abbiamo detto che abbiamo 10 trilioni di galassie. E se assumiamo che ogni galassia ha più o meno lo stesso numero di stelle che la nostra galassia ha, per esempio, è la Via Lattea a 10, no, a 100 miliardi di stelle. Dunque, arrivi ad un numero in cui veramente non c'è neanche una parola per dirlo, però... Dunque, è praticamente 1 con 24, 0. E lo scienziato che ha fatto questi calcoli nell'Università Itaca di New York che questa in realtà è una stima al ribasso, diciamo. Perché più noi guardiamo l'universo, più vediamo. Dunque, possiamo vedere come anche solo nell'ultimo secolo la nostra concezione e conoscenza dell'universo è cambiata. E possiamo immaginare come sarà fra un secolo? Come cambierà nel prossimo secolo? Penso che non riusciamo proprio a immaginarlo. Saremo su Alfa Centaula di Sipulsi. E nella fede, cioè negli scritti Baha'i, incontriamo delle frasi molto interessanti su questo... cioè sull'universo. E dovete ricordarvi che queste affermazioni furono fatte nel XIX secolo, dunque parliamo del 1800. C'è da Baha'u'llah il profeta fondatore. E anche nel 1900, agli inizi, c'è dal figlio c'è di Baha'u'llah e unico interprete Abdul Baha. Una delle affermazioni più interessanti che Baha'u'llah fa è che i mondi spirituali di Dio sono infiniti. Ma anche che l'universo materiale è infinito. Anche il numero di stelle nell'universo è infinito. E scrive In realtà la creazione di Dio abbraccia mondi oltre a questo mondo. E creature oltre a queste creature, cioè a noi. Che è abbastanza incredibile come affermazione. E in un altro passaggio lui dice che i mondi di Dio sono infiniti nel loro numero e infiniti nella loro gamma. E una c'è delle affermazioni più interessanti che c'è che Baha'u'llah fa nel 1800 è la seguente. Sappiate che ogni stella ha i suoi pianeti e ogni pianeta le sue creature e il cui numero non c'è essere umano che possa calcolare. Questo è veramente un'affermazione sì, perché come vi dicevo prima fino a qualche decennio fa non sapevamo neanche che ci fossero dei pianeti al di là del nostro sistema solare. non è chiaro se queste creature non è chiaro se tutte queste creature di cui lui sta parlando sono creature simili a noi o non simili a noi. però lui si riferisce specificatamente a creature in altri pianeti e la scienza un giorno ovviamente scoprirà di che cosa parlava ma questo in realtà diciamo ci spinge a questionarci a domandarci c'è altra vita cosciente nell'universo c'è una vita cosciente che ha il c'è il libero arbitrio si dice sì libero arbitrio sì che ha il libero arbitrio e ci sono altri passaggi negli scritti che dicono che la risposta è affermativa e il figlio c'è di Baha'u'lláh Abdul Baha'u'lláh dice che ci sono altri mondi lui dice ci sono altri mondi al di là del nostro che sono abitati da esseri capaci di conoscere Dio dunque secondo me questo ci suggerisce che sono esseri coscienti dunque che non sono come per esempio in questo mondo gli animali che operano attraverso più 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 l'istinto diciamo e incontriamo anche un altro passaggio molto interessante che in una tavola sull'universo il figlio del fondatore scrive i messaggeri di Dio e i profetti di Dio sono santificati oltre la percezione di numero cioè sono infiniti sono infiniti i profetti di Dio i messaggeri di Dio sono infiniti e noi sappiamo che il proposito lo scopo la funzione di questi grandi messaggeri come c'è c'è Mosè Gesù Baha'u'llà Krishna Buddha è di educarci cioè di no cioè di provvedere ad un'educazione divina diciamo tutti sono venuti per ingrandire la nostra coscienza cioè perché ci si apre il nostro orizzonte come ha detto Gesù che lui è venuto affinché noi potessimo rinascere nello spirito e ingrandire il nostro sguardo cioè ampliare il nostro sguardo e vedere con nuovi occhi e ascoltare con altre orecchie e capire con un altro cuore dunque se i messaggeri di Dio nell'universo sono infiniti ci porta a credere che esseri coscienti in tutto l'universo sono anche loro infiniti perché se no chi stanno educando questi messaggeri infiniti in tutto l'universo e forse le leggi dell'evoluzione sono così potenti che stanno lavorando in tutto l'universo attraverso in quelli dieci trilioni di galassie il numero infinito di stelle e ogni stella ha i suoi pianeti e queste leggi si amalgamano e succedono per creare coscienza ci sono molti scienziati che sono in pieno dibattito su queste questioni c'è uno scienziato molto famoso Stephen Gould che ha detto che la vita in questo pianeta è così è improbabile che se noi potessimo in qualche modo riavvolgere l'evoluzione e ripremere c'è il play no non arriveremo alla vita però altri scienziati tipo Simon Conway Morris non è d'accordo con questa affermazione e lui dice che le leggi dell'evoluzione sono così potenti che loro comunque porterebbero alla nascita della vita cosciente che nel chaos c'è che nel caos c'è l'ordine cioè lui dice che comunque le leggi dell'evoluzione porterebbero alla nascita di essere coscienti e un fisico Paul Davis sembra quasi che la struttura dell'universo e le leggi della fisica sono state di proposito aggiustate in maniera tale da portare alla nascita della vita e della coscienza com'è che noi viviamo in un mondo di ordine che seguono delle leggi scientifiche queste leggi operano in tutto l'universo e noi sappiamo e che anche noi c'è in passato non è che avevamo questa figura esterna possiamo dire che possiamo insomma probabilmente eravamo un po' diversi questa estetica c'è anche noi fisicamente se pensiamo anche all'uomo abbiamo passato gli stadi esatto siamo in continua evoluzione non eravamo animali però e così come e così come anche nell'utero noi ci sviluppiamo no cioè nell'utero all'inizio noi non siamo come poi veniamo dunque questi esseri capaci di conoscere Dio e di riflettere i suoi attributi sono forse sempre esistiti da qualche parte nell'universo e uno può genuinamente chiedersi ma perché stiamo perdendo tempo a pensare a queste domande comunque cioè perché entrare in tutte queste speculazioni insomma diatribe quando abbiamo già così tanti problemi e poi ci mettiamo anche a parlare di colonizzare non lo so cioè Marte adesso stiamo parlando anche di Marte e vediamo e vediamo quanti problemi già abbiamo qui e quanti problemi anche ecologici per esempio e allora guardiamo gli altri pianeti ma chi è che ci garantisce che noi non faremo gli stessi errori in altri pianeti di quelli che stiamo facendo qui penso che proprio di sì se siamo per l'evoluzione che c'è qui ma quello che noi crediamo anche nella fede Baha'i è che l'imperativo fondamentale in questo momento è per il mondo che il mondo si unisca e che riconosca l'unità della razza umana quella è la principale cioè la principale sì ragione cioè per quale tutti noi adesso dobbiamo sì e il fondatore dice anche che noi dobbiamo ansiosamente preoccuparci delle necessità dell'era in cui viviamo e centrare tutte le nostre idee e le liberazioni nelle esigenze di cui il mondo ha adesso ma è importante contemplare l'enormità dell'universo è un'esperienza di umiltà quasi guardare all'universo no perché vediamo la vastità della creazione di Dio e vediamo alla nostra piccola cioè e noi vediamo la nostra piccola terra e dobbiamo chiederci ma veramente dobbiamo essere divisi in questo pianeta in questo piccolo pianeta quando lo vedi in mezzo a 10 trilioni di galassie e a 1.24 zeri stelle e la nostra terra è veramente un atomo vista così e poi anche ci fa pensare ad altre domande quando apprezziamo l'infinità dell'universo ci possiamo chiedere qual è il mio valore chi sono forse sono insignificante vivo in un c'è piccolessima terra in un universo infinito ma dobbiamo sempre ricordarci qualcosa di molto importante così come l'universo fuori di noi è infinito anche così è l'universo dentro di noi perché c'è infatti come ci ricorda Baha'u'llà lui dice tu ti vedi come c'è una forma piccola quando tutto l'universo in realtà è ripiegato dentro di te in realtà la nostra realtà è diciamo un mondo minore ma che riflette il più grande mondo no ed è molto importante ricordare questo una delle cose più speciali di ognuno di noi esseri umani è che noi abbiamo la capacità di riflettere gli attributi e le qualità di Dio in diversi gradi questo è vero per tutta la creazione in realtà per esempio la zanzara esibisce la qualità della pazienza e il leone del coraggio direi la leonesia e il cane prima della pausa stavamo parlando di quanto speciali in realtà siamo ed è un po' un paradosso e guardiamo all'universo e vediamo che è infinito in realtà e ci chiediamo ma allora c'è perché sono speciale che cosa c'è di speciale la creazione di Dio è immensa è immensa no? è molto più grande di di noi ma ci dimentichiamo quel bellissimo passaggio c'è nel libro di Genesi della Bibbia che noi siamo tutti fatti ad immagine e somiglianza di Dio e in caso ci sia stato un fraintendimento nel libro di Genesi stesso dice che questo è sia l'uomo che la donna ovviamente non si sta dicendo che noi siamo fisicamente uguali a Dio perché Dio è infinito e insomma inconoscibile ma crediamo che in realtà si dica che noi abbiamo l'abilità di manifestare le qualità e gli attributi di Dio come la gentilezza cioè l'amore la pazienza e la cioè la carità e la generosità la forza queste sono tutte le qualità che noi possiamo esibire ma tutte queste qualità sono in potenza cioè in potenziale noi dobbiamo fare in modo di girare lo specchio del nostro cuore verso Dio in maniera tale da riflettere questi attributi attributi di Dio e se noi facciamo questo se giriamo lo specchio del nostro cuore verso quella realtà ultima che è Dio e così noi possiamo riuscire a riflettere questa luce e abbiamo molto lavoro da fare perché anche se noi giriamo lo specchio del nostro cuore verso il sole verso la luce diciamo se lo specchio del nostro cuore è sporcato per esempio dall'invidia e dal pregiudizio e allora noi non saremmo capaci di riflettere questa luce e in realtà questa è la ragione della nostra vita quella di pulire quella di pulire lo specchio del nostro cuore per riuscire a riflettere questa luce e facciamo quello nella nostra relazione con gli altri c'è e c'è il servizio verso gli altri c'è verso l'umanità di cui avevamo parlato anche volte scorsa questo è sono dei gioielli preziosi che noi abbiamo dentro di noi questo è il nostro diritto di nascita in un certo senso questo è questo è il nostro destino e noi sappiamo che una delle qualità di Dio è l'unicità dunque tutto nella creazione è unico ogni foglia è unica ogni foglia è unica ogni 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 come si dice c'è il c'è il pezzettino di neve ogni fiocco di neve è unico anche le c'è dei gemelli le come si chiede c'è le dita le le impronte dei gemelli sì dunque se anche ognuno di noi ha il potenziale di manifestare tutte queste qualità di Dio tutti noi lo facciamo in un modo molto speciale cioè unico ognuno di noi è un centro diciamo unico di questi cioè di queste qualità divine è come se se noi cioè prendessimo un cristallo e lo mettessimo davanti alla luce del sole ognuno di questi gioielli rifletterebbe la luce in maniera diversa dunque noi siamo intensamente speciali e siamo intensamente unici dunque è la nostra responsabilità di dedicare la nostra vita a pulire lo specchio del nostro cuore per riuscire a riflettere questa luce in un modo così unico ognuno di noi diverso c'è c'è dagli altri e se non e se non facciamo questo non solo stiamo deprivando noi stessi ma stiamo ma stiamo deprivando tutti e tutta c'è la creazione di essere testimoni di questa unicità esatto c'è della bellezza in cui questa luce può essere riflessa perché nessuno che è vissuto nel passato e nessuno di colui che verrà in futuro e quello probabilmente include anche esseri di altri pianeti potrà riflettere questa luce così come ognuno di noi la può fare dunque dobbiamo sentirci molto speciali ma anche molto umili allo stesso tempo e penso che anche un'altra c'è ragione per contemplare l'universo e per sentire la nostra importanza quando noi guardiamo l'universo ci rendiamo conto in realtà come di tutto sia connesso collegato ciò significa che ognuno di noi ha un ruolo da giocare noi siamo parte di questo universo e ognuna di queste parti per quanto infinitesimale è unica preziosa e importante e negli scritti della fede Baha'i è espresso chiaramente che ogni parte dell'universo è collegata con tutte le altre parti e anche Leonardo da Vinci ha detto impara a come guardare e renditi conto di come tutto si collega a tutto il resto il nostro grande Leonardo dunque non dobbiamo sentirci piccoli e anche contemplando l'universo e possiamo in realtà avvicinarci di più in un certo senso a Dio perché ogni atomo nell'universo è una manifestazione di Dio e una testimonianza di Dio tutto ciò è negli scritti c'è scritto tutto ciò che è cioè nell'universo e tutto ciò che è nella terra è un'evidenza diretta della rivelazione appunto nell'universo degli attributi e dei nomi di Dio così come in ogni atomo sono scolpite i segni che sono una testimonianza eloquente della rivelazione della più grande luce e in quando noi ci avviciniamo di più a Dio in realtà noi ci avviciniamo più a noi stessi al nostro io superiore diciamo perché in realtà chi noi siamo più autenticamente c'è la nostra parte più autentica è la nostra anima questa fiammella divina viene da Dio dunque più noi capiamo l'universo più noi capiamo Dio più noi possiamo capire noi stessi ovviamente non potremo mai in realtà veramente riuscire a a vedere a capire questa fiammella ma ci avvicineremo sempre di più insomma a una conoscenza più e negli scritti c'è anche scritto colui che ha conosciuto Dio in realtà ha conosciuto se stesso esatto esatto e anche possiamo conoscere la terra un po' meglio perché come abbiamo detto più conosciamo anche sull'universo e più riusciamo anche a capire della nostra terra e sappiamo c'è esatto c'è che grazie all'esplorazione c'è degli astronauti e le scoperte scientifiche insomma che sono poi quelle che hanno contribuito ad una maggiore conoscenza della nostra terra e del nostro pianeta ma dunque se l'universo è pieno di vita dove sono? dove sono? perché non abbiamo avuto contatti con queste vite? perché si magari tanti fanno questa domanda se veramente esistono perché non si e adesso proviamo a capire e si chiama il paradosso di Fermi che conosciamo il grande fisico italiano si chiama Fermi Heart Paradox cioè perché non ci hanno contattato perché Fermi aveva capito che anche solo per le leggi della probabilità ci doveva essere cioè ci doveva essere altra vita nell'universo ci devono essere anche delle civiltà extraterrestri anche solo nella nostra galassia perché non ci hanno contattato come avremmo noi insomma avremmo pensato e posso dirvi sì queste sono un po' speculazioni però c'è posso dirvi forse perché una delle ragioni può essere che noi terrestri dobbiamo essere lasciati da soli per poter proseguire la nostra il nostro percorso evolutivo senza interferenze così come un bambino quando nasce deve no c'è attraversare dei passaggi deve compiere c'è dei passaggi cioè non è che lo puoi diciamo come si può dire cioè sono dei passaggi necessari cioè non li puoi dare c'è informazione non è che può crescere cioè più in fretta diciamo di quello che la natura ha predisposto deve fare comunque un'evoluzione nella crescita che quella non può essere accelerata esatto esatto un'altra ragione può essere può essere che non siamo ancora spiritualmente maturi non siamo abbastanza spiritualmente maturi lo scrittore e filosofo Aldous Huxley ha scritto forse questo mondo è è l'inferno di un altro pianeta c'è possiamo immaginarci che nel nostro pianeta ancora facciamo le guerre solo viviamo in questo mondo per alcuni giorni e poi ci sotterreranno qui questa terra è la nostra è la nostra diciamo è la nostra tomba eterna e ci facciamo a pezzi e per cioè ci facciamo sì la guerra e lottando per questa tomba eterna per questo pezzo di terra la più alta forma di essere in potenziale come abbiamo detto essere l'uomo sta lottando per appropriarsi della forma più cioè più bassa che è la terra sì sì maybe in a sense we know about quarantine because of covid but maybe they're quarantined from us because it's not healthy for us to for them to have contact with us we're not mature enough adesso sappiamo abbastanza su successo la quarantena ma forse diciamo che c'è nell'universo e c'è ci sta tenendo a noi in quarantena no perché non siamo ancora a noi pronti e maturi per questo contatto e anche nel nostro pianeta noi abbiamo visto il pericolo quando una civiltà ha approcciato un'altra civiltà senza essere sufficientemente maturi ci sono stati dei risultati molto molto brutti c'è l'imperialismo c'è il colonialismo dunque forse dobbiamo essere diciamo istruiti meglio nell'amore di Dio forse forse quando saremo più istruiti in questa in questo amore di Dio e per Dio che sarà molto più più possibili cioè più possibile e sicuro che altre civiltà ci contattino secondo me dovrebbe essere secondo me dovrebbe essere l'essere umano che scopre questo perché c'è l'amore nell'essere umano c'è una parte di cattiveria che fa le guerre ma c'è anche una parte d'amore non la dobbiamo trascurare c'è l'amore nell'essere umano io ho avuto la fortuna di averla di conoscere però è questione di maturazione l'essere umano deve maturare deve passare del tempo deve capire secondo me istruirsi nell'amore di Dio e diventare quell'amore lì sì ma essere istruiti è diverso dovrebbe scoprirlo l'essere in se stesso l'uomo per capire da solo senza avere un maestro che insegna se no diventa un alunno che è stato insegnato ma non ha capito ma probabilmente può anche non capire è un punto molto importante quando io dico istruito che in inglese è schooled non intendo non si parla di istruito c'è nella maniera convenzionale dell'istruzione diciamo no e in c'è intendo c'è in 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 un senso spirituale no noi abbiamo bisogno di questi messaggeri divini l'essenza di Dio è completamente celata cioè da noi noi non abbiamo accesso all'essenza di Dio allora noi siamo stati messi qua per fare esperienza sì in realtà è questo pianeta è una scuola per l'anima tutto ciò ognuno deve capire per sé quello che è esatto tutto ciò che noi di cui noi abbiamo bisogno no diciamo c'è per l'evolversi dell'anima è in questa terra in questa terra secondo me che si scopre l'amore l'essere esatto e dentro l'uomo l'amore se non lo scopre non può andare avanti per questo sarà una scuola sarà una palestra in questo senso esatto in questo senso si diceva di avere accesso a questo amore e deve venire da dentro come ha detto lei però questa capacità questa c'è immensa capacità spirituale che è dentro di noi questo questo amore infinito che noi abbiamo che in realtà poi è la forza nell'universo dell'universo e dobbiamo scoprirlo perché mica tutti se l'hanno però è è come dice lei latente deve aspettare la scinti esatto ecco si ha bisogno di essere acceso diciamo è come avere la più bella delle lampade ma poi non la colleghi all'elettricità e noi crediamo e noi crediamo e noi crediamo che questi educatori divini chiamiamoli così Mosè Krishna Zoroastro Gesù maometto Mosè c'è Baha'u'llah ci sono cioè sono venuti a questo mondo per portarci questa educazione divina ci hanno e c'è ci hanno dato questa coscienza perché se tu usassi solo la ragione non riusciresti ad arrivare a un codice ad esempio c'è della moralità loro ci portano questi insegnamenti spirituali cioè queste linee guida etiche per aiutarci a scoprire e a rafforzare questa incredibile capacità che noi abbiamo dentro di noi che noi abbiamo dentro di noi abbiamo anche la fortuna di essere giudaico-cristiani dove la nostra religione ci permette ci dice che avremo la vita eterna noi non moriremo mai rispetto ai greci rispetto a altre religioni io non so se Baha'u'llah ci promette la vita eterna perché è facilitato l'essere umano per capire questa vita che senso ha esatto sì assolutamente è una bellissima domanda noi crediamo che la nostra anima diversamente dal nostro corpo è eterna non ci sarà annihilation cioè c'è la distruzione non ci sarà distruzione e diciamo la più bella secondo me delle analogie è quella del feto c'è nella pancia della madre il bambino si sta sviluppando nella pancia della mamma e sta sviluppando le braccia le gambe il naso gli occhi ed è veramente molto importante che il bambino sviluppi quelle capacità dentro cioè alla pancia della mamma perché se lui non non sviluppa queste capacità lì in quel luogo sarà sarà difficile che lui sviluppi queste capacità una volta che nasce perché cioè non è che potrà sviluppare un braccio però quella pancia non è la casa del bambino è uno spazio temporaneo e la pancia della mamma in paragone al mondo è uno spazio molto piccolo anche buio e ristretto e non avrebbe alcun significato che il bambino sviluppasse tutte quelle diciamo cioè le braccia se la vita finisse lì cioè nella pancia della mamma cioè non avrebbe ragione di esserci cioè il perché dello sviluppo nella pancia e la stessa cosa è in questo mondo questo mondo è una casa temporanea questo è il mondo in cui noi dobbiamo sviluppare le nostre capacità spirituali di sviluppare il nostro potere di visione di sentire le melodie divine con le nostre orecchie spirituali come Gesù disse colui che ha occhi per vedere che veda e colui che ha orecchie per sentire senta questa è il mondo dove noi dobbiamo imparare a essere pazienti e amorevoli come sacrificarci e servire il prossimo è la nostra palestra esattamente e se noi non e se noi non sviluppiamo queste capacità in questo mondo sarà molto difficile nel prossimo ma la vita è eterna e quando noi ce ne andiamo da questo mondo c'è in un altro mondo ci troveremo c'è nell'altro mondo nello stadio nel quale abbiamo lasciato questo mondo cioè con lo sviluppo a cui siamo arrivati è uno dei punti principali che Gesù cercava di fare e che Baha'u'lláh viene a riaffermare è che quando tu sei in questo mondo devi cercare di ottenere la vita eterna perché la vita eterna è uno stato di coscienza è uno stato di capacità di visione tu devi rinascere in questo mondo così nel prossimo cioè nella prossima vita così tu e nel prossimo mondo potrai vedere meglio e sentire c'è le meravigliose melodie divine e avere acquisito c'è il linguaggio spirituale per parlare con le altre anime così come abbiamo detto c'è che non c'è la distruzione dell'anima di nessuno ma la vita eterna è uno stato di coscienza c'è uno stato dell'essere così se in questo mondo la tua vita è solo stata io 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 cioè su di te il tuo ego è stato il centro della tua vita e non hai fatto niente per aiutare gli ando cioè non ti sei sacrificato per gli altri se non hai amato gli altri si hai fatto soffrire quindi dobbiamo imparare qui è qui la palestra spirituale vediamo ci sono messaggi no allora penso che no a parte i complimenti che stiamo ricevendo della trasmissione no domande specifiche dell'argomento non ci sono perché credo che siano tutti molto attenti nell'ascolto comunque abbiamo persone molto intelligenti esatto esatto comunque vi ricordo il numero degli sms se volete interagire con noi in quest'ultimo quarto d'ora 334 7102672 allora in pratica abbiamo anche capito un altro c'è un cardine della fede bahai che comunque è la rincarnazione nel senso che quando un'anima non completa diciamo la sua evoluzione in questa palestra che è il mondo il pianeta terra non va continuerà a rincarnarsi per quello che ho capito io qui no no noi non crediamo nella rincarnazione cioè no 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 c'è ci sono l'anima continua no c'è negli altri mondi di Dio ma non si torna in questo mondo cioè non ci si rincarna in questo mondo no ah ok perché mi sembrava di aver cioè mi sembrava di aver capito che si ritornava in questo mondo no 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 che ognuno di noi ovviamente passerà al passaggio al passaggio seguente quello che abbiamo parlato la prima volta c'è alla vita dopo la vita perché c'è vita dopo la vita no c'è in in diversi stadi perché ovviamente dipende da quello che abbiamo fatto o quello che non abbiamo fatto in questo mondo però non si ritorna in questo mondo and what happens to who hasn't I mean completed his experience here hasn't been a I mean a good person here I mean that's good question yes everyone goes to the next world tutti andiamo diciamo ad una vita eterna no cioè nel prossimo sì al mondo successivo ma in un certo ma in un certo ma in un certo senso il paradiso è la vicinanza a Dio e l'inferno è la lontananza da Dio e il paradiso è essere il più vicino possibile alla tua fiammella divina e il vero inferno è essere lontani da quella fiammella divina e ci sono state persone che hanno chiesto appunto cioè questa domanda sulla reincarnazione hanno domandato ma non è ingiusto ma non è ingiusto non cioè non rimandare qualcuno qui se non hanno cioè vissuto bene diciamo cioè ha avuto una buona vita e la risposta è stato nessun Dio caritatevole avrebbe diciamo il coraggio di rimandarci in questa terra ok una volta è abbastanza una volta è che ci sono troppe difficoltà ci sono troppe prove cioè è come ritornare ad una scuola veramente troppo difficile quindi diciamo che comunque però nel mondo dell'aldilà ci sono diversi altri mondi c'è diversi stadi ok quindi in base all'evoluzione che uno ha conseguito qui quando trapassa l'anima va comunque a vivere in altri mondi in altri che ognuno poi ha uno stadio evolutivo tanto poi comunque abbiamo capito che i mondi sono infiniti davvero che comunque in merito all'analogia che aveva dato Nabil sull'utero della madre che noi siamo come un feto qualche intuizione l'abbiamo già anche se pensiamo alla terra che viene chiamata madre terra comunque la natura che ha principio di madre materno c'è qualcosa comunque anche comunque com'è com'è essa stessa la natura ha sviluppata nelle forme più piccole anche quelle più grandi che comunque è sempre è sempre la stessa espressione che si ripete però in tutte anche le altre forme viventi quindi comunque delle intuizioni se ci mettiamo a osservare le abbiamo esatto è molto molto interessante è anche cattiva la natura sì ma appunto sì ma sì va bene ma non è che per madre dobbiamo per forza dire che non è che tutte le madri siano buone come come ha detto come hanno detto Nabil e Ingrid nessun dio caritatevole rimanderebbe un'anima a vivere ancora in questo mondo quindi una volta è abbastanza una volta è abbastanza ecco diciamo che le esperienze quelle più più difficili vengono vissute qui allora avevamo dei messaggi allora intanto buonasera potete ripetere il nome dell'ospite che li ho appena ripetuti però ripeto Nabil accompagnato da Ingrid che le fa da interprete e poi comunque anzi profittiamo anche di lasciare comunque anche dei dei contatti intanto allora stiamo parlando della fede Bahai dove c'è anche un sito che si può andare ovviamente a visionare per approfondire questa bellissima beh non è una religione comunque fede sulla comunità Bahai che è www.bahai.it Bahai si scrive con la B di Bologna Ancona H di Hotel Ancona e I punto it ecco www.bahai.it comunque quando verrà pubblicato anche il video su Youtube metteremo tutti i riferimenti potete anche se volete comunque rivolgere delle domande e mettervi in contatto con insomma mettervi in contatto direttamente potete scrivere un'email anche a padova chiocciola bahai.it che è praticamente la sede di Padova e comunque poi noi scriveremo questo anche nel nostro sito pagina Facebook e anche ovviamente rimane sempre che se non avete magari capito qualcosa potete contattare noi direttamente vi passeremo i contatti o se volete avere più informazioni sui nostri ospiti allora tornando alle domande perché abbiamo dieci minuti Matteo che chiede ci sono anime prescelte incarnate in questo mondo prescelte magari forse si riferisce anche non so se si riferisce ad i messaggeri divini o comunque anime esatto basta se ci sono delle anime prescelte prescelte e la fede Baha'i così come le altre religioni noi abbiamo c'è un messaggero un fondatore e noi pensiamo c'è che queste anime c'è i messaggeri divini hanno diciamo occupano un posto speciale e loro diciamo fisicamente sono come noi i messaggeri divini ma loro vengono dai reami diversi e vengono ad educarci con una conoscenza e loro hanno una conoscenza innata cioè a priori e nella fede c'è il fondatore c'è Baha'u'llah bene poi Luisa che si rifaceva però un'affermazione che stava per fare Nabil forse al momento era stato interrotto Dautelo non mi ricordo che stava dicendo sì un attimo che si lo avete stava dicendo che se non abbiamo capito qui poi infatti lo avete interrotto ma forse si rifaceva comunque quello che dopo è stato concluso se non abbiamo capito qui comunque sì forse quando dicevi sarà difficile sarà un po' più difficile c'è i prossimi stadi sì però comunque si passerà però comunque non vengono annientate le anime questo è una cosa cioè in realtà siamo eterni la nostra anima è eterna certo certo cioè diciamo che comunque passerà in uno stadio dove dovrà completare la sua evoluzione probabilmente non comunque terribile come nel pianeta Terra dopo qui abbiamo anche Joe che non è molto d'accordo nel senso che dice una mia opinione non ha nessun senso che non ci sia la reincarnazione avere una sola possibilità in questa vita e per rispondere a questo ascoltatore dobbiamo ricordarci che il nostro viaggio comunque è infinito attraverso tutti i mondi di Dio e così come l'universo cioè della materia è infinito anche i mondi di Dio sono infiniti dunque ci sarà molto da imparare anche nei prossimi mondi dunque non si deve preoccupare e dobbiamo ricordarci c'è che la carità di Dio è infinita e c'è così come la sua giustizia e dunque se le cose non sono andate in questo mondo così come noi avevamo sperato insomma non sono andate troppo bene ci saranno ci sono opportunità in altri mondi per svilupparci per fare delle buone esperienze si può stare tranquillo John John invece abbiamo ci fanno anche una domanda cioè non una domanda più che altro un'affermazione che anche qui dissente da quello che dite dice la vita è un continuo qualcuno di malvagio ha capito e tenta da anni di non farci ricordare passato per indurci a fare gli stessi errori per sottomettere la massa non so cosa da rispondere puoi ripetere scusa sì allora praticamente sostiene perché adesso non si firma perché è solo puntato siete in errore cioè non è insomma d'accordo la vita è il continuo scritto continuo continuo di qualcuno che è malvagio che ha capito e tenta da anni di non farci ricordare il passato per indurci a fare gli stessi errori al fine di sottomettere la massa noi crediamo che Dio sia amore e che l'atto della creazione è un atto di amore e non è che Dio ha diciamo cucinato una torta e poi l'ha lasciata all'inzio che Dio e il suo amore c'è questa forza vitale sta continuamente sostenendo la creazione e dunque è solo quando noi ci allontaniamo da questo amore che noi sentiamo e vediamo le conseguenze negative e Dio non creerebbe mai un mondo per sottometterci ok bene abbiamo un'altra domanda allora intanto rispondo al radioscoltatore che chiedeva Bahai ti dico che è giusta la prima che hai scritto Bahai quindi B A H A I Bahai ripeto il sito www.bahai.it e anche l'email per mettersi in contatto con la comunità di Padova che è padova chiocciola bahai.it Franco ci chiede perché Dio ha creato l'universo se Dio è perfetto assoluto questa è molto bella why did God created the universe if he's perfect it's a very good question but let me ask you a listener can you imagine a universe that is filled with so much diversity so much vastness and also free will all together e puoi chiedere al tuo ascoltatore per favore se si può immaginare un universo che sia così infinito così diversificato e probabilmente pieno di free will e c'è di libero arbitrio io non posso immaginare un universo più perfetto c'è che una combinazione del genere possiamo dire che l'universo stesso essendo infinito è Dio stesso sì a parte un coglione che tiene sottomesso una parte di umanità che non ha magari sì ma qui stiamo parlando dell'universo non stiamo parlando del pianeta una palestra una palestra spirituale e dobbiamo sviluppare i nostri muscoli spirituali esatto è la nostra opportunità è la nostra opportunità esatto e poi abbiamo un'ultima domanda anche perché siamo ormai in direttura d'arrivo siamo in fine ma di che ma di che mondi intende forse chiede i futuri mondi forse anche chiedeva quando un'anima magari passa su un altro mondo chiedeva di che mondi intende non lo so perché non ci sono stato ancora intanto vi ripeto per l'ultima volta il sito per approfondire questa fede i principi di questa fede il sito principale di bahai che è www.bahai.it e anche l'email per mettersi in contatto con la comunità bahai di padova che è padova chiocciola bahai.it comunque noi queste informazioni le metteremo anche sul nostro sito sulla nostra pagina facebook potete comunque chiaramente contattarci anche alle circolighina se volete avere informazioni più dettagliate se voglio avere quell'inglese per quell'inglese penso che ci sarà il sito punto com bahai.org ah ok invece il sito internazionale di bahai è www.bahai.org allora siamo in conclusione si rispondeva anche il radioscoltatore che aveva detto di qualcuno di malvagio che tenta di non farci ricordare il passato e così risponde l'universo ha un limite quel limite è dentro ognuno di noi va bene ognuno chiaramente poi esprime il proprio pensiero la propria opinione non penso che l'universo abbia un limite ma chiaramente sono punti di vista si l'uomo semmai è un limite si allora no è divertente no c'è tutte queste speculazioni sulla vita in altri pianeti si si certo ed è interessante parlare della vastità dell'universo ma non ci dimentichiamo adesso il nostro pianeta c'è il pianeta terra e cerchiamo di ricordarci cosa significa essere un essere umano e Baha'u'llah fa un'affermazione secondo me molto molto importante lui ridefinisce che cosa significa essere un essere umano e condividerò c'è questo passaggio con voi sì certo in realtà è un uomo colui che oggi si dedica al servizio della intera razza umana che sia benedetto e felice colui che si alza per promuovere i migliori interessi di tutti i popoli di tutta la terra uno non deve essere felice di amare il proprio paese ma di amare il mondo intero la terra è in realtà un paese e l'umanità c'è i suoi cittadini cittadini ma amare il tuo paese è una cosa meravigliosa ma non è una contraddizione amare il proprio paese e amare anche tutto il mondo esatto e non puoi amare il mondo c'è se non ami il tuo paese direi che qui hai espresso pienamente tutto il concetto non so siccome c'era Giulia che all'inizio della trasmissione aveva chiesto se in poche parole potete dire che cosa ci dobbiamo aspettare da questi tempi magari se per concludere vuoi spendere un paio di parole noi abbiamo molte speranze molte speranze per questo pianeta terra in questo universo infinito anche se sappiamo che l'immediato futuro si presenta e si presenterà con molte sfide ma noi crediamo perché ci è stato detto che il futuro magari non quello immediato è molto luminoso e tutte queste crisi che si susseguono sempre più rapidamente una dopo l'altra sono come i dolori del parto però che sono un'avvisaglia di qualcosa di meraviglioso che sta per accadere noi sappiamo che le contrazioni quando una donna sta per partorire diventano sempre molto più frequenti anche dolorose ma annunciano la nascita di una nuova vita di qualcosa di meraviglioso e dunque le crisi che noi stiamo attraversando sono come gli ultimi momenti diciamo di un mondo che sta morendo e della nascita di un mondo meraviglioso è luccicante abbiamo fede nel futuro perché dobbiamo avere fede negli esseri umani direi che è davvero perfetto beh che dire grazie per essere stati qui con noi e per queste bellissime cose per questo bellissimo tema che hai portato Nabil sull'universo sull'universo e l'esistenza di tantissimi altri pianeti altre forme di vita sono state come abbiamo detto anche delle speculazioni ma davvero molto molto interessanti avevamo l'ultimo commento di Roberto che dice si dice che tutto il mondo è paese esatto e in effetti anche questa è un'altra indicazione esatto se ami il tuo paese devi essere pronto a combattere contro tutto e tutti noi dobbiamo essere amare il mondo esatto più che combatterlo grazie Viviana no grazie a voi è stato davvero un piacere e anche abbiamo avuto la fortuna di ospitarvi già due volte visto che intanto nel vostro temporaneo soggiorno in Italia ecco perché poi tornerete in Inghilterra ecco magari sarebbe interessante ripetere una terza volta prima insomma che ritorniate in Inghilterra sì una quarta una quinta quindi credete un collegamento dall'Inghilterra sì certo beh dopo potremmo anche fare un collegamento telefonico sì ecco comunque comunque finché i nostri ospiti saranno qui in Italia approfitteremo per fare un'altra puntata sempre serale qui fisicamente sì moltissime grazie Viviana per averci ascoltato grazie a voi e alla prossima e un saluto agli ascoltatori grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!